Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno. È il nuovo ritorno. Questa è la nuova Dracqueen. Oltre a mia cugina Vale c'è Dracqueen Dani. Pronta a perdere il suo spettacolo? Vabbè, allora, per realizzare questo trucco ovviamente ho preso sempre ispirazione da una foto di internet, ma cioè queste labbra erano praticamente lì nella foto e ci stava come abbinamento. Non ne avremmo mai fatte. A me non sarebbe mai venuto in mente sinceramente, avrei sicuramente utilizzato un rossetto nude. Però questo rossetto scuro riprende un po' il colore che ce n'era piega, quindi ci sta. Ovviamente non per uscire durante il giorno, però per una festa ci può anche stare. E niente, comunque se volete voi potete optare anche per un rossetto più naturale ovviamente, come avrei fatto io sicuramente, però anche così non mi dispiace, anzi mi piace molto. È una versione un pochino più alternativa per quelle più coraggiose che non hanno problemi ad uscire così di casa. Insomma, io non ce la farei, nel senso non riuscirei mai a riuscire così di casa. Però, cioè è vero come trucco, mi piace molto, però io non riuscirei mai a riuscire così di casa. O magari sì, non lo so. Sapete che io... Io sì, sì. Sapete che io prediligo più i trucchi naturali su di me, sugli altri, secondo me sta benissimo toccata così. E mi piace anche fare i trucchi di questo genere, però io su di me non mi ci vedo con questi trucchi qua. E niente, quindi se volete potete optare per un rossetto più naturale. E... Bom! Spero che vi piaccia come look, fatemi sapere come ne pensate. Io vi mando... Un bacio. E... Cioè no, vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Allora inizio come sempre applicando una base e utilizzo il painter Liddy Mac. Ora vado ad applicare con un'ulteriore base questa matita azzurra della Wicon, che vado a scaldare la punta un po' con l'accendino. Aspetto un attimo che si raffreddi, e poi la vado ad applicare come base tutta la palpebra mobile sull'albo all'interno e poi all'interno dell'occhio. Ora prendo un pennello da sfumatura e vado a sfumare la matita. A questo punto prendo un ombretto simile alla matita, che è questo colore qua nella palette della Sleekra Ultra Matte Brights, e lo metto proprio sopra la matita. Ora vado a prendere della Ultra Matte Dance, questo colore marroncino-rossiccio, che vado a mettere nella piega e nell'angolo esterno. Poi con il pennello appena prendo un po' di nero, sempre dalla stessa palette, ma pochissimo, e lo metto solo nell'angolo esterno. Ora, come colore illuminante, prendo il primo colore della Naked, e lo vado a mettere nell'angolo interno e sotto le sopracciglia. Nero matte lo vado a portare anche sotto. Ora vado a realizzare una linea di eyeliner. Vado ad applicare queste ciglia finte qua. Vado ad applicare il mascara sia sopra che sotto. Come a fototinta vado ad applicare questo qua nella Maybelline, il Dream Nude Mousse. Come correttore utilizzo questo qua, che la Debbie, lo vado a mettere nella zona delle occhiaie, e poi utilizzo il duo della Essence per fare... per corregione, like, funzionare. Come cipria utilizzo questo che era da un fondotinta minerale, ma leggerissimo, benissimo di come cipria. della Walcom. Come terra e blush utilizzo questo duo della Kiko. Vado ad utilizzare ovviamente il colore marrone come terra, e il rosa come blush, ovviamente no? Cioè, mi pare ovvio. Un po' di illuminante, ma pochissimo. questo qua della Essence. Le labbra saranno abbastanza importanti, anzi, importanti, senza abbastanza. Lo ripeto perché è finita la memoria, quindi non so se l'avete capito, cioè se l'ha registrato più che altro. sto contornando le labbra con la matita di Kiko numero 710. prendo prima il pennello e sfumo un po'. Come rossetto vado ad applicare questo qua della Sleek, che è un matte e si chiama Vamp. la Dracqueen Dani è qua. la Dracqueen Dani è qua. che esede in sì perाsì Gira. Come superisi a vedere. I like. Usi. Smyth Faccio I Youtube. U.S. Grazie a tutti.